Prorogata al 23 settembre la chiusura delle iscrizioni, ancora qualche giorno per registrarsi al rally, lo comunica la segreteria dell'ASD Piloti Sipontini, scuderia organizzatrice del 14esimo rally Porta del Gargano, quarto trofeo Città di Vieste. Agli equipaggi provenienti da tutta Italia, che ancora presentano la loro richiesta di partecipazione, si è deciso di concedere ancora qualche giorno, prorogando a lunedì 23 settembre la chiusura delle iscrizioni. Si prevede un'altra gara di grande rilevanza sull'onda di quando accadde lo scorso anno, quando a prevalere fu l'asso di Manfredoni a Giuseppe Bergantino, in coppia con Mirko Di Vincenzo, su Scoda Fabia. Lunedì 23 settembre la presentazione a Vieste a Palazzo Comunale, tra le autorità dei comuni interessati, alla manifestazione Mattinata, Pescheci e Vico del Gargano. Oltre naturalmente a Vieste c'è grande curiosità in campo sportivo e in attesa anche della gara del via. Tanto è vero che i rispettivi sindaci, Michele Biceglia, Luigi Darenzo e Raffaele Sciscio, hanno aderito all'invito degli organizzatori di partecipare alla presentazione dell'evento, insieme al sindaco di Vieste e presidente della provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti. L'appuntamento alla conferenza stampa, che lunedì 23 settembre alle ore 10.30 nella sala consigliare di Palazzo Comunale di Vieste, aprirà ufficialmente la settimana dei motori sulle strade del Gargano. Tutti i dettagli sul percorso di gara illustrati dagli organizzatori con il supporto dell'autorità sportiva. Per la SD piloti Sipondini ad accogliere gli intervenuti saranno il presidente Bartolomeo Solitro e il direttore tecnico Antonio Martinez, il quale illustrerà il percorso e lo svolgimento della manifestazione. Non mancherà il supporto dell'autorità sportiva rappresentata dal presidente dell'automobile club Foggia, Raimondo Ursitti. I dati salienti del tracciato si riassumono nei 327 chilometri di lunghezza totale, lungo le strade dei comuni di Vieste, Mattinata, Peschici e Vigo del Gargano. Saranno disputate 10 prove speciali cronometrate sulla distanza complessiva di 73,5 chilometri. La manifestazione, valida quale settima e conclusiva prova della Coppa AC Rally, ottava zona, prenderà il via alle 17.30 di sabato 28 settembre e si concluderà dopo la sosta notturna, domenica 29 alla stessa ora. Il tutto nel contorno sia della partenza e dell'arrivo di Marina Piccola di Vieste.